Matteo! 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 Cambiamento, cambiamento, cambiamento a Foligno, dopo una vita di sinistra che ha fermato la città, si cambia e finalmente domenica sono orgoglioso di offrire a tanti cittadini umbri la possibilità di cambiare pagina e poi la prossima volta toccherà la regione perché anche su quello la sinistra ne ha combinate troppe negli ultimi anni. Noi non chiediamo i soldi degli altri ma vogliamo usare per gli italiani i soldi degli italiani. L'unico modo per ridurre il debito è far lavorare gli italiani abbassando le tasse, quindi nessuno mi convincerà mai a rimettere in vigore la legge Fornero, aumentare l'IVA o aumentare le tasse. Il treno passa domenica, poi non ripassa domenica.